Lucia buongiorno e buona settimana da qui dalla Sicilia con questo bellissimo sole che ci pace e ci dà un augurio di buona settimana. Come dicevi tu, stanno suonando le campane proprio per dirci che sono le 7.30 e che possa iniziare una bellissima settimana per tutti quanti. Alle mie spalle il santuario della Madonna della Sciara. Imparerete a capire di cosa stiamo parlando durante il corso di questa mattinata, ma volevo farvi notare come questo santuario abbia una facciata molto semplice ma che richiama proprio la lava vulcanica perché alle spalle di questo santuario c'è l'Etna, il gigante che domina tutta la Sicilia e che tanto ha influenzato la storia e la vita di questo paese in generale. Noi ci spostiamo all'interno del santuario dove è conservata una statua che pensate ne ha passate di tutte. Non vi dico altro perché ovviamente lo fate voi in studio e noi ci rivediamo dentro proprio ai piedi della Stato. A te Lucia.